La valigia sull'elto è quella di un lungo viaggio E tu senza dir niente hai trovato il coraggio E già cari, buongiorno, la valigia degli artisti, quella di un lungo viaggio, è altro che la valigia sul letto Oggi è venerdì, 4 marzo, mi sono un attimo confuso un po' l'emozione Perché oggi c'è un personaggio molto originale, molto particolare, ha una cultura mostruosa Però passiamo ai ringraziamenti, devo ringraziare la GoHire di Olga Romanova Un ringraziamento per essere entrato per parte della famiglia, della valigia degli artisti Un salone di bellezza, sono i numeri uno, li trovate qui in Brescia proprio Pensate, qua proprio magari sotto casa, in via 25 Aprile, 46 Barra, in via Vittorio Emanuele, 40 Sono dei grandissimi professionisti della bellezza E poi grazie, grazie Devo ringraziare l'acquolina in bocca in via Lodi a Melzo Dove la serietà e la professionalità sono all'ordine del secondo, neanche del mio secondo Bam, bim, bum, bam, ci sono e danno il massimo per soddisfare le vostre esigenze E a Gatto e la Volpe, in via 24 Maggio a Melzo Dove fanno una pizza squintitissima, una cucina eccellente Passate a trovarli perché sono i number one Bene, devo ringraziare anche Carlo Oliva alla regia E Thomas Lanzi alla regia audio Wow Oggi sono orgasattissimo che c'è un personaggio Oggi ne sentiremo delle belle, eh, voglio dire Non esito, non vi faccio aspettare Non voglio farvi aspettare Perché lui è un grandissimo E lui si chiama Tommy Ferretti Ciao grande Tommy Ciao Che piacere, che piacere incontrarti Il piacere è mio Allora, caro Tommy, io so che tu sei un ex calciatore Per caso e per sbaglio Per caso e per sbaglio, però sei giocato, voglio dire, insomma Da professionista, a buoni livelli, ecco Poi cosa è successo? Perché io questa puntata, talmente io ho letto la tua biografia Non sono bastati veramente, non è bastata mezz'ora Ero a metà Cioè vuol dire, allora, a questo punto ho preferito Che tu parlassi di te Certo Questa è una bella cosa Raccontaci, raccontaci, racconta ai nostri aspettatori Chi sei Guarda, ci sono due cose Intanto, quando mi hai chiamato Volevo entrare dandoti la schiena Perché? Perché il motivo per cui sono qua è un motivo preciso Cioè tu stai facendo un programma di servizio È una cosa importantissima Sono venuto proprio perché tu sei una persona che dà voce a coloro che spesso non vengono ascoltati e che hanno cose da dire E quindi entrare al contrario significherebbe fare io un'intervista a te Bene, bene, non sarebbe male Allora, visto che dovresti farmi questa intervista, cosa che accetterei ben volentieri Chiederei gentilmente al caro Thomas Un sottofondo Oh, che cominciamo a creare un po' la coccola della guai Il regno dell'armonia Bene, allora raccontami un po' Beh, appunto, stavo dicendo che la valigia degli artisti è una valigia sempre piena Gli artisti sono tanti e più sono bravi e meno fanno Questo è il mio concetto, ne ho conosciuti tanti e quindi è meritorio quello che fai perché stai facendo un programma Grazie Che è importante perché la voce delle persone è importante E poi è il 4 marzo oggi 4 marzo E quindi volevo fare un saluto a un caro amico che non c'è più Il grande Lucio Dalla, certo Lucio Dalla E quindi Dice che era un bel uomo e veniva Veniva dal mare Parlava un'altra lingua E questo fa parte del patrimonio storico che ognuno di noi ha dentro di sé Perché quello che è un po' il mio lavoro che è fatto più dello stare dietro a questi strani oggetti che sono le telecamere E quindi è un ruolo inconsueto per me E qual sarebbe il ruolo? Io facendo regia, facendo l'intervistatore, lavorando per le radio e quindi sono più abituato a stare dietro Amo sempre dire che se devo passare per strada preferisco passare su marciapiedi piuttosto che in mezzo alla strada Quindi non è il protagonismo che mi interessa nella vita Però le esperienze che uno ha vissuto non te le toglie nessuno Cioè quando io racconto di Andrea Bocelli per esempio Eh dai che ci interessa molto questa cosa E lo racconto volentieri perché Andrea io l'ho conosciuto quando andava a scuola con una mia fidanzatina Pensa a te E purtroppo aveva il problema che ha sempre avuto fin da dieci anni Cioè essere non vedente Perché lui prima dei dieci anni lui vedeva Ma cosa è successo? E lui è stato in parte vittima anche di un incidente Ah povero E quindi dicevo i casi della vita Io questo ragazzino che accompagnavo a prendere l'autobus insieme alla mia fidanzatina Poi l'ho riscoperto dopo quando gli ho fatto la prima E posso dirlo perché è così La prima intervista importante che lui ha avuto quando io lavoravo per tutto musica e spettacolo di Sorrisi e Canzoni E mi chiedono se avevo un artista sotto mano che secondo me valesse la pena intervistare Io proposi appunto Andrea che ancora aveva fatto poco Era appena stato contattato da Zucchero per fare Miserere Certo che poi è stato il brano che poi grazie anche a Pavarotti E quel cd porta le foto fatte da me Ma pensa La prima copertina di Andrea Boscelli Le foto sono mie come il primo articolo che intitolai la forza del destino Anticipandogli quello che gli sarebbe successo nella vita Quindi questo fa parte di quel patrimonio appunto che sta dietro A questi oggetti appunto che ci riprendono Che ci fanno belli o brutti Più larghi di una taglia Lo sapevi tu? Sì sì certo Infatti io sto dimagrendo perché quando mi riguardo poi dico Ma com'è possibile? Mi mettono davanti il piatto da mangiare No non mangio perché se no dopo intere No è questo scherzato E quindi diceva abbandonata questa carriera da calciatore Perché un giorno ti accorgi che non ti va di correre dietro a un pallone Nonostante i privilegi, gli agli e tutto quanto Contro il parere di chiunque compresi i miei familiari Quindi io ho smesso di giocare circa dieci anni prima della fine della mia carriera Ci stavi dicendo che tu eri dietro delle macchine a cinque presa Un piccolo paesino delle marche Mi piaceva quando appunto ho visto Nuovo Cinema Paradiso Mi piaceva pensare che fosse la mia storia Perché vivere appunto il cinema da una piccola cabina di proiezione di un piccolo paese Mi dava la possibilità di capire cosa era la celluloide E quindi vedere anche le famose pellicole Le famose pellicole che bruciano Per cui la gente che si lamenta perché non riesce a vedere la parte di film E queste luci Capire che dietro c'era tutto un meccanismo È quello che mi aveva portato poi ad appassionarmi appunto al mondo dello spettacolo Che poi non ho intrapreso perché a 14 anni hanno scoperto gli altri Che ero un piccolo talento del calcio E lì per lì la cosa mi è piaciuta perché c'era la passione C'era tutto Poi quando scopri che il calcio è una schifezza ti viene voglia di andare via Scusa uso parole di questo tipo Ma io non amo Ho i peli sulla barba ma non ce l'ho sulla lingua Ma si sa che ogni sport c'è il suo perché Il suo fascino e le sue problematiche Ma so che sei stato per tanto tempo un ottimo speaker radiofonico Vuoi raccontarci un pochettino questo evento? Hai intervistato Mezzomondo So che tu hai un sacco di conoscenze Sei una persona chiaramente di spessore Io mi annoio facilmente nelle cose Quindi quando trovo qualcosa che mi piace, mi appassiona Cerco di farlo E siccome non avevo mai fatto radio prima E la radio è importantissima perché la radio è fantasia Fantasia perché quando tu descrivi delle cose la gente le sente Le immagina come crede, un po' come leggere un buon libro E allora ho cominciato a sfruttare questa cosa con due o tre mie idee Al di là delle interviste, voglio dire, agli amici dello spettacolo Ai Bonolis, ai Pippo Bauda, ai Renzo Arbore Che sono persone che conosco Cioè ma avete capito cari telespettatori Lo spessore di Tommy No ma non lo dico Lui è intervistato personaggi È amico di personaggi di grande spessore Ma ci terrei a dire che non lo dico Perché questo è il traino per poi fare quello che pensi Perché io ho altri due programmi Uno si chiama Vaffa Radio Dove ci mando tranquillamente chi secondo me se lo merita Con nome e cognome Non do la carta d'identità perché non ce l'ho Però se parlo di qualcuno Insomma parlare male di qualcuno in Italia basta pescare nel sacco Non è difficile Certo, certo E l'altro quale sarebbe? E l'altro si chiama Sale Pepe Peperoncino Che non è un libro di ricette di cucina Ma è tutto ciò di cui bisognerebbe parlare E che stimola, voglio dire Stimola il pensiero Stimola un certo modo di essere Ma sotto quale profilo, scusaci? Sotto tutti i profili Il profilo per esempio del rapporto uomo-donna Della coppia Delle differenze che ci sono Della politica Di tutto quello E dove le possiamo trovare queste due trasmissioni? E questo purtroppo non te lo posso dire in questo momento Perché non te lo posso dire perché ho lasciato questo rapporto Proprio questa settimana Ah che peccato Vabbè ma una persona preparata come te Penso che non è che abbia fatica Cioè ha fatica No però Fà fatica a trovare degli spazi O delle persone che possono Anzi No anche perché Perché quelle che sono i miei progetti Sono legati anche al mio modo di essere Quindi siccome adesso insomma l'età avanza Insomma non siamo più di primo pelo nessuno Adesso mi sto programmando un futuro davanti al computer Sto scrivendo libri E siccome quando decido di fare le cose Mi piace farle in un certo modo Ne ho scritti quattro Che non ho ancora proposto a nessuno Quindi quando esco esco con quattro libri Ma cosa sono? Dei racconti fantasiosi? Sono reali? Sono delle nerofine? Sono due libri di saggistica Ok Poi uno dei quali si chiama Il miliardo È un libro dove io penso che si possano rendere ricchi Ma ricchi veramente gli italiani in una settimana Cosa che il nostro governo non fa Beh ti compro subito una decina di copie io Si cercano nella vita Nella vita si cercano sempre le soluzioni più difficili Rendere ricchi gli italiani Significa solo fargli spendere meno È la cosa più semplice del mondo E quindi analizzo un pochino questa nostra economia disastrata Anche perché il segreto per diventare ricchi è non spendere Bravo E poi ne ho scritto un altro che riguarda i diversi Che si chiama Indovina chi viene a cena Questo libro parla dei diversi Perché oggi i diversi sono molto di più dei cosiddetti normali Ma sono meglio i diversi però Certo che sono meglio Ecco però sono quelli più bistrattati Perché quelli normali tra virgolette Sono coloro che comandano E che decidono che qualcuno possa essere diverso Per la pelle Per il proprio orientamento sessuale E non si è capito che siamo tutti cittadini del mondo E il mondo non dovrebbe avere frontiere Certo, no, siamo tutti figli di Dio Siamo tutti figli di Dio Siamo tutti liberi di andare dove vogliamo E non capisco perché da noi non possa arrivare Una persona che scappa dalla guerra Quando io prendo un aereo e vado dove mi pare E nessuno mi dice niente Eh ma lì tocchiamo un po' un discorso un po' particolare Questo Questo sto dicendo Soltanto che i buoni e i cattivi esistono dovunque Quindi i cattivi vanno presi E vanno perseguiti come meritano Ma noi voglio dire Noi italiani che abbiamo insegnato al mondo Come si gira Voglio dire Per lavoro Non possiamo oggi pretendere Che gli altri non vengano da noi Questo significa problematiche Dei affrontare in maniera semplice Secondo me Sì quindi in questo libro affronto il problema dei diversi Che non sono soltanto i profughi Voglio dire Sono tutti coloro che vengono bistrattati nella vita Compresi gli artisti Che sono bravi e che nessuno gli fa fare niente Questo legandolo alla tua cosa Sì Anche questa qua è una cosa vera Però io presumo Presumo che Se uno ha i numeri Noi in macchina facciamo un ragionamento No Che chiaramente ci sono delle trasmissioni Dove fanno cantare Fanno qua Ma si sa che La maggior parte Sono il figlio Il cugino Di quello Perché c'è una forte C'è un forte casting Dietro Un grande casting Però sono già confermati E anche Secondo me Il problema di chi ascolta E che viene tenuto In una condizione tale Per non capire Dove sta la bellezza Io faccio un esempio Che è molto semplice Io ho intervistato Pochissimo tempo fa Luigi Grechi De Gregori Il nome dovrebbe dire qualcosa Fratello di Francesco Il fratello di Francesco Ecco Girardengo l'ha scritto lui Quando Ah pensa Quando lui La cantò E la propone Alle pari etichette discografiche L'hanno mandato Beatamente A quel paese Suo fratello L'ha cantato anni dopo E ha venduto 500 mila copie In una settimana Sì che poi Con tutto il valore di Francesco Però se senti due Non c'è nessuna differenza Quindi Il paese Meno Meritocratico Che c'è al mondo È l'Italia È vero Dove c'è tanta gente Che può fare E non fa Invece il ritorno Ai complimenti Che ti faccio Per la trasmissione Io mi sono stufato Di vedere Dalla Gruber Da Formigli Da Floris Le stesse persone Che girano E dicono le stesse Minchiate Scusami Nel senso Nel senso Che sono persone Tra l'altro Che parlano di problemi Che non li riguardano affatto Quindi non li conoscono Certo Io ho avuto Il piacere Di sapere Cosa significa Non avere da mangiare Sulla tavola Eh Non ti dico Che ci sono passato Anch'io Però L'artista Può essere L'artista Milionario Quello che Che fa la vita Da una babbo Dove non vi manca nulla E l'artista Che invece Ha delle grandi idee Ma è incompreso E purtroppo Non ha neanche una patata Da poter pelare E far bollire Questo è un dato di fatto Ma è vero Tanti artisti Che ho conosciuto Pittori O magari Dei grandi poeti Sono morti di fame Grazie Italia Grazie Sono diventati famosi Dopo morti E comunque Per concludere Il mio discorso Su quella che sarà La mia attività Da ora in poi Per qualche periodo Sempre che non cambierò Poi dopo Ci sono altri due libri Uno è un romanzo Di fantapolitica Che è ambientato Nel 2017 Cioè perciò Parlerà di un futuro Un futuro Quasi quasi immediato Dove Dove spero Così Che Almeno io Spero che la gente Umile Alzi la testa Perché la gente umile Deve capire Che fa parte Di un grande Numero di persone Che non contano niente Però Questa popolazione umile Deve capire Che Unione fa la forza Si dice E allora facciamoci sentire Ma soprattutto Veramente cari telespettatori Non bisogna mai Sottovalutare Le idee Perché le idee Assolutamente Fanno la differenza Grandi centri E' un giallo E' un giallo ambientato Nella mia terra Che poi anche la tua Che è la Calabria Grazie Calabria Ambientato in un piccolo Paesino di Calabria Che è ricco anche di quelle Che sono Le tradizioni Che sono anche le cose Un po' Un po' Nascoste E' un libro E' un giallo Che parla intanto Appunto Della cretezza Di una certa mentalità Dove le persone Possono essere viste In un modo E sono in un altro E che ha quel vago senso Anche Di un po' Di paura Che nei gialli Ci deve essere Beh c'era il giallo Lo dice la parola stessa Voglio dire E quindi Quando non avrò Più le gambe Per camminare Starò davanti Ancun più da scrivere Beh nel frattempo Tu sarai sempre Benvenuto Alla valigia degli artisti Per raccontarci I tuoi nuovi lavori Qualora li farai Io sarò molto lieto E felice E orgoglioso Di ospitarti Per un'altra puntata Perché per me Sei una persona Molto speciale Soprattutto di grande Di grande spessore A livello culturale E umano Che è la cosa Che fa la differenza Perché ci vuole più umanità Nel mondo E se posso permettermi Un appello Devi Se avete qualcosa Da dire Venite alla valigia Degli artisti Grazie Sei veramente Da brivido Da brivido Veramente Bene caro Tom Grazie Grazie a te Oggi ho avuto L'onore e il piacere Veramente Di avere un grande personaggio Signori Cari telespettatori La valigia degli artisti Oggi venerdì 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 4 marzo Il grande Tommy Ferretti Grazie a voi Grazie Rimani qua con noi Allora Cari telespettatori Siamo arrivati a venerdì Abbiamo disquisito Oggi Una puntata Molto 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 Originale Mi è piaciuta Moltissimo Chiaramente Siamo al fine settimana Mi auguro Che passate un fine settimana Sereno In grazia di Dio Con le persone Che volete bene L'importante è stare bene In serenità Io farò la mia seratina La mia cantatina Come sempre Questo è il fine settimana Che svolgo da sempre Devo fare ringraziamenti All'international artist Di Franco Imi Mocatulea A Elio Color Chiaramente E alla Olga Romanova O Golaire Salone di bellezza Splendidi Via 25 aprile 46 barra A E in via Vittorio Emanuele Numero 40 Qui in Brescia Perciò Passate a trovarli Perché sono delle promozioni Mese di marzo Che sono fantastiche Number one Poi devo ringraziare L'acqualina in bocca In via Lodi a Melso Dove la serietà La processionalità Sono all'ordine del minuto E Gattolo a Volpe In via 24 maggio Proprio Dove c'è una pizza squisita Con la pasta integrale Pasta verde O se no Una cucina Deliziosa Personale Altamente qualificato Anche lì E voglio fare un saluto A Gino e a Meri Ecco Poi devo fare un saluto Grazie Un saluto All'assistente di studio Lucy Fish Un bacio grande E poi devo chiaramente Ringraziare Carlo Oliva Alla regia E Thomas Lanzi Alla regia audio Grazie Grazie per esserci stati Questa settimana Alla valigia degli artisti Un saluto da RTB Network Ciao Ci vediamo lunedì Con la valigia degli artisti Un bacio Alla valigia di un lungo viaggio Alla regia di un lungo viaggio Alla regia di un lungo viaggio Alla regia dei artisti Alle